Un grande lago, il placido fiume Limat. A guardare loro qui la vita sembra si sia fermata, invece non è così. Zurigo, 370.000 abitanti, è una città che corre. Senza affanni però, senza schiamazzi, senza strombazzate di clacson, qui regna l'ordine, l'efficienza, la puntualità, la pulizia. È il paradiso dello shopping, ma anche la grande oasi della cultura, l'isola felice della vita notturna. Il lusso la fa da padrone e la geniale creatività degli architetti ha trasformato a Zurigo-Ovest vecchi reperti di archeologia industriale in immensi spazi di socializzazione, lasciando immutate le strutture originarie dove adesso ci sono, per esempio, un ristorante alla page oppure una galleria commerciale. Non meno indovinata la razionale valorizzazione delle campate di un viadotto ferroviario ancora attivo. Ovunque in Italia sarebbe un indecente ricettacolo di rifiuti a Zurigo-Ovest e una sequenza di 36 negozi, atelier, ristoranti. Qui, dicono gli esperti, è la migliore qualità della vita. C'è un ristorante ogni 180 abitanti. La Banoff-Strasse è la più famosa via degli acquisti del mondo. Il pranzo su un battello che ti porta a spasso sul lago e un piccolo assaggio degli sfizi che ci si può togliere. Qui incontriamo Isabella Ignacchiti, responsabile per l'Italia di Zurigo Turismo. Cosa fanno i giovani a Zurigo? I giovani studiano, abbiamo più di 20.000 studenti qui a Zurigo. La sera la città offre tantissimo per i ragazzi, infatti è la città più vivace della Svizzera. Zurigo conta più di 50 locali e sono disposti su più punti della città. Considerate che proprio anche da altre città come Basilea e Berna, che distano solo 50 minuti o un'ora, vengono proprio qui a Zurigo per la vita notturna. È importante però vedere che in questa città si dà vita al nuovo e in questa città è possibile avere un'idea e realizzarla. Infatti per esempio Zurigo è la città dove è nato il dadaismo, tanto per ritornare all'aspetto culturale.